Abbiamo avuto la settimana scorsa una azienda dell'Emilia Romagna e ne approfitto per ringraziare nuovamente il cluster Salute e Benessere dell'Emilia Romagna che insieme al distretto toscano di Scienze della Vita ci ha salvato nell'organizzazione di questi eventi. La scorsa settimana abbiamo avuto un'azienda sicuramente molto interessante che lavora in tutt'altro settore rispetto al tuo che è Tsunami Medical e abbiamo avuto l'opportunità di apprezzare sia il lavoro che stanno facendo anche in termini di innovazione. Loro si occupano in parte di impiantabili per la corona vertebrale e anche insomma altri prodotti, altri devices che ci hanno illustrato ma anche per loro ecco la sfida un po' dell'adeguamento al nuovo regolamento è sul piatto perché è tema chiaramente molto caldo e allo stesso tempo è uscito un po' in maniera abbastanza forte il tema dell'innovazione. Oggi abbiamo Kaiser Italia appunto e con Michele Balsamo e magari fra un attimo spendo qualche parola Michele anche per presentare te e per dare due notizie anche di tipo eh biografico sul tuo percorso perché secondo me è molto interessante anche rispetto all'esperienza che stai facendo in in Kaiser. ehm la settimana prossima avremo un'altra azienda della Toscana eh che è WITAP e la settimana successiva ancora concludiamo il nostro percorso con un'altra eh azienda un'altra testimonianza sicuramente di grande interesse che è Emoled. quindi sostanzialmente stiamo a metà del nostro del nostro percorso e mi fa piacere poter condividere con te e con eh con Kaiser questo nostro appuntamento e insieme a Delia Fantini che eh è qui con me eh nella gestione di questo di questo talk è il nostro eh responsabile della parte C&Q. abbiamo avviato una collaborazione con eh con Kaiser e ci fa piacere per più di un motivo approfondire anche attraverso questa occasione eh la conoscenza di questa azienda sicuramente particolare. Per chi non mi conosce io sono Margherita Bertoldi la eh brand ambassador di JSB Solutions e come immagino molti di voi sappiano eh JSB è una società che si occupa ormai da più di dieci anni di consulenza in ambito Life Science e eh eh clinico oltre che a sviluppare soluzioni software sia per l'uno che per l'altro settore e siamo diciamo orgogliosi di presentare queste queste testimonianze perché insomma l'occasione un po' del nuovo regolamento su medical devices che ormai entrerà in vigore a breve è diventata un po' l'occasione per eh conoscere ehm le aziende che che fanno parte del del nostro tessuto imprendiale del del centro Italia e sicuramente è un'occasione per eh attivare come dicevamo l'altra volta quel network e quel confronto che spesso manca e invece ci aiuta appunto per condividere esperienze, conoscenze e approcci. Eh quindi ringrazio Michele Balsamo che è qui con noi oggi e appunto dicevo dico giusto due parole su di te perché è interessante capire anche il il percorso che hai fatto tu eh perché Michele è laureato in biotecnologie mediche, cellulari e molecolari alla Sapienza a Roma dove poi ha fatto anche un dottorato che ha svolto interamente a a Cambridge ehm dove sostanzialmente ha studiato i meccanismi cellulari e molecolari che sono alla base della migrazione, dell'invasione ehm e le metastasi delle cellule tumorali. eh ha poi ha avuto una serie di collaborazioni con eh la scuola superiore Sant'Anna e dal duemilaquattordici fa parte appunto del gruppo ricerca e sviluppo in scienze della vita di Kaiser Italia e supporta sostanzialmente lo sviluppo di esperimenti di biologia spaziale che sono incentrati sulla comprensione eh degli effetti dell'ambiente spaziale sui sistemi biologici e fisiologici. quindi questo è un po' anche eh sicuramente uno degli ambiti di interesse che come dicevamo un po' anche prima no? Suscita molta curiosità e è sicuramente molto affascinante. eh Michele poi è anche membro del comitato direttivo dell'Istituto Italiano di Astrobiologia Rete dei laboratori appunto nazionali eh di astrobiologia e ehm svolge anche un ruolo di revisore per diverse riviste. lui stesso è autore eh di più di venticinque pubblicazioni. Quindi a nome di JSD Michele ti ringrazio per eh la grande opportunità che ci stai dando oggi di un confronto con te e di conoscere ancora più da vicino questa questa realtà che è Kaiser Italia. e con questo direi che eh lascio la parola a te semplicemente con una nota tecnica per i nostri partecipanti ovvero sia che anche durante questa prima parte di presentazione eh di Michele Balsamo potete sfruttare la ehm eh in basso nel eh nella barra in basso le domande e risposte. la sezione domande e risposte la potete usare per fare via via le varie domande di 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 interesse di approfondimento che eh appunto possono nascere durante questa prima parte di presentazione e poi noi le recuperiamo in nella seconda parte se poi ci fosse anche qualcuno che vuole intervenire sarà sufficiente alzare la mano. lo trovate sempre l'alza la mano nella nella barra in basso. Grazie ancora Michele e lascio davvero a te la parola. Allora grazie mille grazie mille soprattutto per questo per questa presentazione in quanto eh come Margherita diceva probabilmente sarà qualcosa di di diverso eh qui eh voi poi affronterete nei prossimi nelle prossime varie sessioni. Allora eh sì sono Michele Balsamo sono eh responsabile di area ricerca e sviluppo di Caser Italia. Eh Caser Italia ehm è un'azienda toscana no? Eh per chi non la conoscesse immagino molti di voi eh siamo a Livorno eh abbiamo una sister company così come si si suol dire eh nel campus di Harville ehm nello UK eh principalmente siamo eh un'azienda privata eh di ingegneria dei sistemi eh aero spaziale soprattutto. Eh siamo un team multidisciplinario ehm composto ad oggi da più di settanta eh ehm tra diciamo scienziati ehm ingegneri soprattutto a ovviamente in diversi ambiti del dell'ingegneria dall'elettronica all'aeronautica e meccanica ovviamente abbiamo competenze in termodinamiche eh fisica eh software eh programmazione eh ma anche eh diciamo da parte più diciamo scientifica ovvero ottica chimica ehm chimica eh biologia molecolare o biotecnologie io stesso appunto sono un biotecnologo eh l'azienda è mh è localizzata nel su sulle colline eh livornesi nel 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 bel mezzo di di un bosco ehm ed ovviamente siamo organizzati ehm per poter ovviamente sia disegnare e sviluppare hardware eh per eh eh sperimentazione spazio eh possiamo abbiamo anche uno user support operation center ci permette di eh visualizzare in tempo reale ciò che accade a bordo stazione eh ovviamente passiamo attraverso eh Houston per fare ciò ehm è un nostro ambito appunto principale è anche quello eh delle scienze del del eh della vita. diciamo che siamo molto conosciuti a a livello europeo eh per essere leader eh per queste sperimentazioni in abito eh life science ehm come detto il nostro core business è eh l'industria spaziale eh loro sviluppo e realizzazione di eh payload scientifici e di equipment eh ora un payload è un carico pagante eh tutto ciò che viene sviluppato 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 a terra per essere poi utilizzato eh nello spazio è un payload. Ah di questo soprattutto in ambito life science come dicevo eh ma anche nel campo delle scienze fisiche eh nel campo esplorativo e in veri e propri pezzi di equipment eh soprattutto oggi per la stazione spaziale internazionale. ovviamente chiunque volesse eh leggere ehm leggere un po' di più rispetto a quello che facciamo eh la mia presentazione oggi sarà molto diciamo tagliata sull'ambito life science ma facciamo molto altro eh dal punto di vista ingegneristico eh può andare sul nostro sito. eh negli scorsi trentacinque anni di attività eh non sono pochi per per un'azienda che è è nata a conduzione familiare in pratica eh la Cassia d'Italia ha partecipato a più di ottanta missioni spaziali eh con lo sviluppo di più di cento venti payloads eh che abbiamo sviluppato sia eh come eh prime contractor che come sottocontraente eh eh in diversi programmi dell'Agenzia Spaziale. italiana l'Agenzia Spaziale Europea soprattutto ma anche eh sottocontraenti di eh altre grosse aziende eh aerospaziali europee. eh il nostro hardware eh praticamente ha volato un po' dappertutto eh eh ovviamente sulla stazione spaziale internazionale ma anche eh su su moduli cinese eh Shenzu eh sullo shuttle quando era eh in funzione lo shuttle americano eh e oggi eh su eh i moduli eh che ci permettono di portare eh i nostri dispositivi da terra tra la stazione come eh SpaceX eh ma non solo eh moduli giapponesi eh europee eh e abbiamo fatto esperimenti anche sulle capsule russe a su satelliti e oggi è anche ehm abbiamo delle linee di ricerca che ci portano di attività e che ci portano a fare anche sulle sperimentazione anche eh in eh eh nanosat e microsatelliti e in nanosat e microsatelliti CubeSats. Allora il nostro ruolo in questi esperimenti è duplice eh sia come sviluppatori veri e propri di hardware. quindi sviluppatori sia di eh faciliti anche abbastanza grandi eh ma ma anche soprattutto di eh hardware eh faciliti ehm quant'altro eh nell'ambito delle scienze della vita. Diciamo questa scatolina qui la vediamo in seguito è un bioreattore che è grande quanto una scatola di sigarette in pratica. eh abbiamo anche un ruolo di supporto sia scientifico che tecnologico eh per gli esperimenti che saranno integrati eh a bordo stazione e delle operazioni eh le andiamo a seguire a ad esempio se vogliamo eh se abbiamo andato su un dispositivo medico per fare dei test eh su astronauti. Ah perché scienze della vita? Beh beh mh ora eh facciamo scienze della vita soprattutto per due o tre diciamo grosse branche. La prima diciamo è quella che ci insegnano no? Eh dell'origine della vita eh astrobiologia eh ma anche eh vogliamo studiare eh gli effetti eh dell'ambiente spaziale eh sul corpo umano. è un ambiente un po' particolare ovviamente. Abbiamo eh una gravità alterata di gravità eh radiazioni, vuoto, campi elettromagnetici e quant'altro. Eh in questo vogliamo anche studiare delle contromisure eh sia mediche eh che farmacologiche per far sì che questi effetti vengano attenuati. diciamo perché eh perché eh tutti diciamo ehm al giorno d'oggi sappiamo che eh le agenzie spaziali nasa, ad esempio in primis ma anche eh cinese e quant'altro hanno degli obiettivi molto ambiziosi eh che sono quelli di raggiungere Marte. ehm nel fare ciò eh ci sono tanti problemi da eh da dover ehm appunto tenere in considerazione. e se appunto vogliamo portare il nostro astronauta a colonizzare prima la Luna e poi a colonizzarla come outpost per poi poter accedere a Marte e quant'altro eh beh dobbiamo studiare bene eh ciò che accade. mi focalizzo a livello a livello di fisiologia eh ma anche eh di ad esempio ehm di dovergli fornire del cibo fresco, del cibo nutriente ehm e quant'altro. eh diciamo che da un punto di vista biomedico eh sono diversi gli effetti del colpo eh del volo spaziale, del viaggio a eh verso Marte diciamo così eh sul corpo umano. Non non sto qui ad appuntare tutte ma ehm praticamente ogni organo eh corporeo su subisce delle 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 eh subisce delle eh degli insulti diciamo così eh tra i più diciamo un po' di saputi ad esempio eh questa perdita di massa muscolare e perdita di massa ossea ehm tra le tra le altre cose eh che eh molto spesso vengono studiate perché sono anche dei modelli accelerati eh di eh patologie che nell'uomo accadono eh nell'invecchiamento. quindi eh sappiamo tutti che eh l'osteoporosi è un grosso problema da tot anni in su eh nella popolazione umana eh negli astronauti questa cosa è molto più 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 accelerata. Quindi non solo possiamo eh studiare questi contributi per gli astronauti ma eh noi abbiamo facendosi studi eh delle ricadute a terra eh proprio da un punto di di vista biomedico. ognuno di 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 questi effetti sono ovviamente un'area di investigazione e noi ne abbiamo fatto alcune eh in case d'Italia eh da un punto di vista di fisiologia umana ad esempio qui riporto eh due eh degli degli esempi diciamo pregressi e sulla sulla destra c'è un dispositivo che ad esempio misura eh come varia eh la perdita di forza muscolare negli arti superiori e nella nella forza della mano. eh ed è stata fatta eh un esperimento eh da uno dei primi astronauti italiani eh da Vittori a il secondo è un esperimento di cinematica. vogliamo capire eh come eh l'astronauta eh si si muove nello spazio, quale eh muscoli, quale aree corporee vengono vengono più sollecitate rispetto ad altre. eh abbiamo anche sviluppato dei payload eh che riguardano non so soprattutto eh bioanalizzatori eh per la contaminazione. eh qui ci siamo fermati purtroppo solo ad un ground demonstrator, allo strumento di terra. eh quello che che facciamo correntemente eh di 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 cui eh abbiamo diversi esempi sono eh della strumentazione che permette la sperimentazione biologica. eh in diversi ambiti eh in quanto nel corso degli anni eh abbiamo sviluppato un vero e proprio albero sperimentale eh abbiamo testato all'interno dei nostri bioreattori ehm e hardware quindi eh da a batteri, a alghe, lieviti, eh piccoli animali, i tardigradi, artropodi, nematodi ultimamente, eh rotiferi, ma anche e soprattutto eh linee cellulari o tessuti eh sia umano che umano. che eh che murini. Ah questa cosa appunto eh di diversi esperimenti se non la maggior parte sono stati sviluppati eh ed eseguiti a bordo della stazione spaziale. Cos'è un bioreattore brevemente ehm è un'unità che ci ci permette eh di di svolgere eh un esperimento. lo riduce praticamente un laboratorio eh in un meccanico, in un device piccolo quanto un pacchettino di sigarette se vogliamo ma anche più più grande. eh permette diciamo l'esecuzione automatica eh di un protocollo scientifico eh contiene i campioni biologici ovviamente le permette di crescere. eh e anche eh i chemicals, terreni di coltura, fissativi e quant'altro eh che sono eh che servono appunto per la loro eh omeostasi o crescita o quant'altro. eh per diverse ragioni eh gli esperimenti sono al 90% automatici eh noi impostiamo una timeline qui a terra e questi dispositivi la seguono eh senza un contributo dell'astronauta. eh questo perché eh il tempo astronauta è una risorsa molto costosa e preziosa. Eh quindi degli degli esperimenti in cui eh il tempo astronauta eh è ridotto al minimo eh sono quel tipo di esperimenti che le agenzie spaziali cercano in quanto sono a più basso costo rispetto alle grosse attività ad esempio di manutenzione della stazione in cui eh quegli astronauti sono quali volti. eh il più delle volte eh i dati sono registrati da questi dispositivi e una volta a terra perché appunto lì possiamo recuperare eh si si può fare eh le varie analisi principalmente di biologia molecolare e cellulare e quant'altro. eh noi a a terra che 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 cosa facciamo? Il più delle volte andiamo al sito di lancio con ehm la controparte scientifica e centri di ricerca e università. eh integriamo il loro campione biologico all'interno del nostro hardware a chiudiamo appunto il nostro hardware all'interno di di contenitori che ci permettono poi eh di pacchettarlo e di spedirlo eh attraverso appunto quei vettori eh di cui parlavamo prima ad esempio SpaceX eh abbiamo ad esempio in passato eh su moduli russi eh questi contenitori sono poi ah alloggiati dal dal dall'astronato stesso all'interno di grosse facilities più o più o meno grandi ah ma all'interno del ah dei moduli spaziali. ah è un tipico eh su cui illustrato è un tipico bioreattore ma eh come potete ben 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 vedere ne abbiamo sviluppati diversi perché ne abbiamo sviluppati diversi perché ovviamente eh noi si parte dai requisiti scientifici eh che ci vengono dati eh dagli sperimentatori attraverso le le agenzie spaziali e eh non sempre ma il più delle volte sviluppiamo dell'hardware. ad esempio eh ad esempio eh se questo hardware ci permette di eh coltivare e crescere eh sia elegance eh quest'altro ci ha permesso di eh sono dei piccoli acquarietti che ci hanno permesso di studiare la rigenerazione delle ferite eh in larve di Xenopus levis eh eh ma anche colture cellulari eh in questo esperimento eh studieremo la coltura colture osse eh in quest'altro esperimento eh in quest'altro esperimento abbiamo studiato eh come biofilms batterici interagiscono con dei substrati rocciosi ehm e questo è stato il primo hardware in cui abbiamo studiato dei piccoli minatori spaziali. eh eh ad esempio quest'altro è un hardware che abbiamo sviluppato eh in cui andremo a testare eh biofilms microbici eh il contributo di eh materiali eh per andare a contrastare la formazione di biofilms. questo perché eh per diverse ragioni eh per diverse ragioni ad esempio all'interno dei moduli eh delle metri spaziali eh molto spesso si formano dei biofilms eh di tipo batterico o fungino sono molto pericolosi sia per la straduta dell'albera astronauta ma ma anche per le prezzature eh tecnologiche e scientifiche. eh questa è una veduta del modulo eh eh europeo eh europeo del Columbus. Questa foto è stata scattata eh durante la missione di Paolo Nespoli e la riconosco perché qui c'è eh il marchio, il logo dell'Agenzia Spaziale Italiana. eh e da quei esperimenti eh se non la maggior parte dei nostri esperimenti sono sviluppati all'interno di questo piccolo incubatore che si chiama Cubic. ehm diciamo che ehm noi ad oggi abbiamo anche sviluppato eh abbiamo portato avanti eh delle linee di eh sperimentazione eh commerciale. cioè eh noi possiamo avere accesso a questa facility eh attraverso i nostri bioreattori ehm con con un servizio eh end to end che possiamo dare ai ai clienti. Quindi se ci fosse qualcuno interessato basta che mi contatti in questo. Eh è una via eh diciamo della commercializzazione dello spazio che sempre di più le agenzie spaziali che stanno eh cercando di portare avanti. Ora eh visto che stiamo parlando di dispositivi eh medici ehm in questo esperimento che abbiamo fatto eh recentemente eh Luca Parmitano eh il nostro assonato italiano eh ha attestato eh un bioimpedenziometro eh tra l'altro di un'azienda toscana eh di cui noi per conto dell'Agenzia spaziale eh italiana abbiamo eh abbiamo eh spazializzato. Quindi l'abbiamo resa ehm abbiamo reso possibile che questo strumento che è uno strumento che si può trovare in qualsiasi ehm qualsiasi di etilista o quant'altro eh possa essere utilizzato a bordo stazione. Eh questa è un'immagine rappresentativa eh di come eh uno uno strumento che nasce per eh una a uno studio a terra eh può essere può passare attraverso uno delle eh industrie come le nostre eh noi poi permettiamo appunto che questo eh a questo strumento possa essere utilizzato a per perché dico spazializzazione? che ovviamente eh durante eh la progettazione eh lo sviluppo di dispositivi eh per scienze della vita ma questa cosa applica insomma diversi tipi di dispositivi di dispositivi ma soprattutto per dispositivi life science che dovranno essere portati a bordo stazione eh dobbiamo eh tener conto eh di problemi che sono associati alla salute alla safety dell'astronauta. uno di di questi è per esempio eh uno studio sul campione biologico eh che sarà portato a bordo stazione eh oppure eh uno studio dei chimici delle delle sostanze chimiche che noi intendiamo portare a bordo stazione. Di solito questo tipo di assessment viene fatto eh dal dal dalla NASA ah dal eh toxicology panel eh e a noi ci dirà guardate che dovete sviluppare l'hardware eh per tenendo conto eh di livelli di contenimento eh se secondo delle tabelle ben impostate. Cioè nel senso che noi sviluppiamo un hardware ehm che deve soddisfare quei requisiti di safety eh che ci ci vengono imposti. ci sono altre regole eh che ci vengono imposte dall'agenzia spaziale ovviamente quando andiamo a lavorare ehm su un soggetto umano eh dobbiamo andare a in un ambiente come quello della stazione dobbiamo andare a considerare diverse cose. ad esempio eh che durante eh che durante il il design non abbiamo degli sharp edge no? Dei dispositivi che che hanno un angolo appuntito eh oppure che in uso non 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 scaldano più di 45 gradi o che sono infiammabili eh l'utilizzo di batterie deve essere ben regolamentato. ad esempio eh dobbiamo andare a sostituire o a o a progettare eh dei condensatori eh di un certo modo se il nostro dispositivo eh fa molto rumore questo deve essere sotto una certa soglia. tutto ciò per 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 arrivare ad un punto eh che è il punto ehm di questa diciamo di questa conversazione che ehm è vero che ehm noi eh ci stiamo affacciando eh al mondo delle eh biomedicale molto lentamente ma eh con grosso interesse ehm c'è tutto un un heritage eh da parte del dell'azienda sia da un punto di vista appunto ingegneristico ma anche ehm nel cercare di eh prendere questi requisiti ehm che hanno a che fare ovviamente con la sfida dell'uomo ehm rimpastarli per far far sì che eh possiamo fare eh possiamo andare avanti con una progettazione eh di eh che possa essere appunto eh eh di impatto per eh eh con l'uso eh di un astronauta insomma. Per farla breve eh ci sono diversi stimoli che hanno portato l'azienda ad affacciarsi a questa sfida biomedicale eh sovopattutto eh per i dispositivi eh che riguardano le self-therapies eh abbiamo parlato di bioreattori abbiamo parlato di livelli di contenimento eh abbiamo parlato eh intrinseco eh intrinseco abbiamo parlato di sterilità dobbiamo mantenere eh delle ehm dei dispositivi sterili per far di funzionare e per poter portare a casa il nostro risultato eh quindi c'è un'esperienza nella progettazione e nello sviluppo eh di di questo tipo di dispositivi a ovviamente c'è un interesse industriale a diversificare una sorta di portafogli aziendale soprattutto rispetto a dispositivi biomedici inerenti alle tecnologie cellulari ehm c'è da dire che c'è eh un un contatto diciamo pluriennale con delle aziende eh del territorio toscano e con l'università eh che ci hanno permesso sia di iniziare eh uno studio preliminare su dispositivi che sono associati alle eh tre 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 cellulari eh stiamo portando avanti eh ciò che accennava Margherita a malinizio del del talk eh un ulteriore progetto eh cofinanziato eh dal MISE ehm quindi noi quello che eh ci che puntiamo è di sviluppare eh un dispositivo eh per la crescita cellulare eh cellulare automatizzata eh per sperimentazione preclinica in pratica eh in questo eh pro progetto eh di qui nasce anche la nostra collaborazione con 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 GSB ovviamente è chiaro a tutti che il nostro ambito eh ciò da qui veniamo eh non non ha troppo a che fare con delle regolamentazioni eh per dispositivi per di dispositivi biomedici ma nemmeno eh diciamo eh sappiamo eh sappiamo eh sappiamo molto rispetto alla progettazione puntuale eh di questi dispositivi eh per far sì che un giorno possono poi diciamo affacciarsi a mh in ambiti di sperimentazione preclinica o clinica o quant'altro. io con questo avrei finito eh so che appunto è stato un qualcosa di diverso rispetto a a ciò che di solito in questi tipi di eh di seminari di webinar vengono presentati comunque sia vi ringrazio per l'attenzione ed ovviamente eh per qualsiasi eh curiosità e informazione basta che mi contattiate eh soprattutto devo dire se volete portare qualche vostro dispositivo o fare qualche sorta di esperimento eh in un ambiente come la stazione spaziale. Grazie. Grazie. Grazie Michele perché è vero quello che dici nel senso è una stata una testimonianza un po' diversa dal solito e dal tipo di aziende con cui ci stiamo interfacciando sia naturalmente nella quotidianità professionale sia anche eh nell'ambito di questi virtual talks. però diciamo la la mia prima impressione è quella di dire caspita però stiamo molto più centrati sul anche sugli aspetti sulle implicazioni legate ai medical devices di quanto ci potessimo immaginare prima di seguirti in questa presentazione. cioè ci sono talmente tanti aspetti legati eh appunto alla alla progettazione e poi all'utilizzo dei medical device eh diciamo in un contesto molto particolare come può essere quello a bordo stazione naturalmente eh il che sicuramente mh alza no un po' il il livello anche di di complessità. tu accennavi anche molto semplicemente no non deve essere superato una certa soglia di rumore eh quindi c'è tutta una uno studio che mh colloca questi medical devices in un ambiente che non è quello appunto che siamo abituati a a prendere in considerazione. eh io su questo chiederei appunto a Delia Fantini che è il nostro responsabile dell'area CNQ eh di poter eh avviare una riflessione su su questi aspetti. abbiamo diciamo dai dieci ai quindici minuti di tempo eh però almeno affrontiamo e cominciamo un po' a approfondire alcuni aspetti magari andare su qualche qualche curiosità in più eh invito i i partecipanti ad utilizzare il eh form delle delle domande e risposte per inserire le proprie domande intanto do la parola ad Elia grazie. grazie mille Margherita. Anch'io voglio ringraziare tantissimo Michele per eh l'interessantissima presentazione ma anche per la semplicità con cui ci riporta diciamo sulla terra queste frontiere della ricerca astronomica e quindi della ricerca in eh nello spazio. eh applicazioni che ritornano da noi eh quello che si vede tipicamente è che eh normalmente dalle frontiere della ricerca derivano delle applicazioni eh nel nelle applicazioni di tutti i giorni eh nel nostro settore in particolare nel settore farma e medical devices eh si deve un attimo scontrarsi o incontrarsi con alcuni linguaggi alcune eh linee eh linee guida che possono essere differenti tra questi due settori e appunto che identificano un po' il fulcro della della nostra collaborazione eh che rispettivamente ha due campi completamente differenti ma che ha un un punto d'incontro che sono i medical devices in questo in questo caso. eh per noi eh posso dire eh posso dire a a chi ci segue che ha rappresentato una bellissima opportunità quella di sta rappresentando una bellissima opportunità quella di eh collaborare con Kaiser perché eh ci permette di mettere a frutto in maniera più avvincente di quello che facciamo solitamente il nostro know how che abbiamo maturato in anni di esperienze in un settore che eh conosciamo e che a volte può essere eh che a volte può essere eh il conosciuto può diventare semplice e non avere l'interesse di un eh di un campo di applicazione socialmente diverso. Questa è la nuova frontiera e questo è qualcosa che ci arricchisce dando il nostro contributo. Quindi dal punto di vista nostro è bellissimo lavorare su un progetto del genere. e poterlo fare con persone che che hanno la nostra stessa passione in un altro campo è è ancora più eh di soddisfazione. Quindi eh quindi appunto rinnovo il ringraziamento. Un'altra caratteristica che tendo a sottolineare di di questa collaborazione, questo coinvolgimento nostro è il timing. ovvero capita spesso eh di essere eh di essere coinvolti in eh nel nostro lavoro in fasi eh si può dire eh conclusive di un progetto quando si tratta di eh tradurre e preparare una documentazione per una eh sottomissione, per un ingresso in una convalida di uno strumento o qualcosa del genere. in questo caso il eh il nostro coinvolgimento all'inizio del progetto ci permette di eh di essere liberi nel poter dare al meglio il nostro contributo. e questo secondo me denota eh una lungimiranza eh di Kaiser, una lungimiranza e soprattutto un'esperienza in un approccio sia teorico che pratico perché è chiaro che intervenire in maniera correttiva su un progetto quando manca qualcosa di eh di rimente può essere inutile se non fallimentare. e quindi ecco ecco un coinvolgimento invece come in questo caso a livello iniziale ci permette di di davvero mettere a frutto il il nostro know how e confrontarci su quali possano essere i possibili impatti in un momento precedente. eh e per questo niente c'è un grosso ringraziamento e una felicità nel lavorare in questo modo. Ecco eh non so se come suppongo ci possano essere alcune domande perché l'argomento è di di indubbio interesse. Quindi vedo c'è uno spettatore con la mano alzata, Margherita o o qualche domanda nel ah è Jacopo se li possiamo. Buonasera a tutti, complimenti ad entrambi. Una curiosità, ehm come va la comunicazione? Perché sono comunque siamo due mondi eh che non si sono mai incrociati, no? Ci siamo detti, hanno tante cose in comune e di solito quando ci si incontrano mondi un po' così diversi, uno dei problemi più forti è eh comunicare e usare termini anche banalmente facili da capire subito. Come sta andando la comunicazione per voi? Rispondo io? Prego, prego. Rispondo io per prima. Sinceramente eh abbiamo avuto del del degli incontri tecnici con Elia eh siamo andando avanti. Eh ciò ciò che ci ci è naturale e spontaneo è che è un un documento che nell'ambito più medicale farma si si chiama con un nome, noi lo chiamiamo con un altro nome eh ma nella pratica sono le stesse cose. Soprattutto sulla sfera ingegneristica cioè ehm alla base di molte cose c'è la definizione di requisiti ben 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 precisi, dei metodi di verifica che tu comunque devi eh buttare giù eh delle delle ah sì delle una scrittura di specifiche tecniche e quant'altro. ehm non so se vuoi aggiungere tu Elia qualcosa diciamo la sorpresa di entrambe è stata appunto eh che si chiamano diciamo eh dei due documenti in modo diversi ma la sostanza poi più o meno la stessa. sì per noi erano le URS confrontate a le specifiche di esperimento, le requisiti di un esperimento nel loro linguaggio ma di fatto erano lo stesso documento in eh due contesti completamente diversi. quindi il confronto diventa facile nel momento in cui ci si confronta direttamente cioè il linguaggio diventa semplice quando ci si confronta direttamente ovvero si spiega e si sanno quali sono le finalità di un di un documento, di un argomento particolare. eh a quel punto diventa soltanto un gioco di trovare come lo chiamiamo noi e come lo chiamano loro però il campo è molto simile nel senso il la ricerca e il metodo è simile eh quello che cambia è il contesto e quindi è come una traduzione tra due linguaggi però ecco la stessa parola esiste in entrambe le lingue anche se si chiama diversamente ecco. sì devo dire che Jacopo Jacopo Montegiani che è il nostro direttore generale ha colto uno degli aspetti devo dire probabilmente il primo su cui ci siamo confrontati e su cui abbiamo avuto proprio la necessità no di dirci ma questo termine a cosa corrisponde? questo tipo di documento per voi voi come lo chiamate eh quindi sicuramente l'aspetto del linguaggio è importante c'è stata una quasi una traduzione simultanea no perché effettivamente il metodo e l'approccio è molto simile ehm su questo eh mi aggancerei con una domanda di Valentina Grazzini che ci chiede i due settori coinvolti i due settori coinvolti life science e aerospaziale hanno eh standard qualitativi diversi si può dire che uno dei due settori abbia un livello qualitativo più alto dell'altro posso rispondere io se no certo certo ma eh secondo me eh si può dire che entrambi i settori eh hanno livelli qualitativi altissimi hanno livelli qualitativi altissimi probabilmente sono tra i due settori presenti che hanno livelli più alti di ricerca della qualità è sbagliato però pensare a una gerarchia tra questi eh più semplice pensare a un focus diverso ovvero in un eh messa a punto di un esperimento scientifico in eh nello spazio si deve pensare a tanti aspetti nel quale il eh un malfunzionamento può generare anche del eh problematiche anche alla sicurezza dell'equipaggio stesso o a un lavoro lunghissimo che è stato fatto per la messa a punto dello dell'esperimento stesso è un costo altissimo nel nostro settore il focus è quello del paziente finale e quindi tendiamo a scindere la parte business dalla parte qualitativa eh che ha un impatto sul paziente però questo non implica livelli differenti di qualità entrambi i settori ricercano la massima qualità possibile con un obiettivo differente ma con un eh punto di arrivo simile è sempre lì il discorso della traduzione di due linguaggi il nostro approccio è quello di cercare di dare il nostro know-how perché siamo più competenti nella sfera e conosciamo più l'ambiente in cui ci muoviamo nel farmaceutico e medicale e medical device ma il livello qualitativo del del settore di cui si occupa Kaiser è elevatissimo ecco quindi non è difficile far una gerarchia in questo. Sì se posso aggiungere giusto una curiosità che eh noi ogni giorno ci ci scontriamo con ehm eh con questioni di eh di safety che quindi sono associati a qualità no? Eh questo in dubbio o ramp up della della qualità in questo settore eh purtroppo nasce da da due eventi estremamente spiacevoli quali furono il disastro prima del Challenger eh poi del Columbia eh da questi grossi eh tragedie eh sono sorte eh delle eh delle posizioni a standard di qualità estremamente elevati a dalle cose più eh eh più 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 stupide posso dire così eh alle più 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 importanti. Ripeto eh eh la slide che ho presentato sui livelli di contenimento eh in un qualsiasi laboratorio biologico a terra eh non faresti così non metteresti così tanto peso a maneggiare un terreno di di coltura o o ad un tampone di lavaggio. eh è un problema. Nel nell'ambiente spaziale quel tampone di di lavaggio che tu a terra maneggeresti senza alcun problema eh eh se c'è uno spillover se c'è un leak cosa del genere questa doccia di sale può andare nell'occhio dell'assunata e recargli il bruciore. Una delle cose più 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 stupide che possiamo dire un po' di acqua e sale eh se ci buttiamo sulle mani va bene ma eh se ci va nell'occhio ci brucia. Ecco eh nel progettare questi dispositivi eh eh per l'all'appunto anche eh questa minima eh questione deve essere considerata altrimenti non ti bloccano l'esperimento. cioè non 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 te lo fanno fare. Te lo bloccano. Sì sì chiaro chiarissimo. Eh ti faccio un'altra domanda da parte di Valentina Adolfi. Vorrei sapere se avete avuto evidenza come l'ambiente spaziale influenza il metabolismo e o la crescita batterica. Sì 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 allora ehm diciamo che c'è c'è tanta letteratura. Tanta tanta tanta. Ahm batteri e microrganismi. Quindi lasciamo perdere la 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 parte più biomedica di biologia cellulare o quant'altro. Ah Sars. Allora eh quando noi eh portiamo eh un dei dei batteri che ad esempio consideriamo non patogeni a terra. ehm la media spaziale è un ambiente altamente eh stressante. Stressante da diversi punti di vista. Ah se sono stati fatti esperimenti in cui eh lieviti della birra eh una volta i riportati a terra hanno eh messi quindi poi in coltura hanno poi dato a birre con un bouquet molto più floreale. eh si scoprì perché eh perché eh questi lieviti sotto stressa pregolano dei 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 geni delle heat shock proteins particolari che 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 quindi per il lievito è uno stress ma eh poi al gusto organolettico da un qualcosa di particolare. eh eh diciamo altri batteri aumentano la loro patogenicità eh ad esempio ehm questo è il caso ad esempio anche di alcune muffe eh di muffe che sono state proprio andate a a a essere eh prelevate eh da pannelli eh a a bordo stazione ovviamente all'interno. quindi sono delle muffe che che abbiamo portato con noi eh che eh che a terra se le se le analizzi hanno un dato genoma e una volta ha dato eh una data espressione genica una volta raccattate dalla stazione e analizzate eh sono diventate più ah diciamo hanno appregolato geni eh di patogenicità. eh e questi sono pochi esperimenti. Eh in altri tipi di esperimenti che noi abbiamo fatto recentemente eh la domanda che mi è stata posta è è proprio una domanda chiave eh per future emissioni eh in cui ehm per future emissioni eh di colonizzazione. cioè noi sulla terra utilizziamo noi sulla terra utilizziamo batteri per fare diverse cose tra cui fare biomining cioè l'estrazione di minerali da rocce eh eh possiamo utilizzare lo stress approccio una volta che saremo eh su Marte? cioè possiamo sfruttare queste eh questi batteri per fare ciò? Eh e questa è una domanda se non sperimentiamo non lo sapremo mai sperimentandolo abbiamo capito che probabilmente cambia molto poco quindi ciò che si riesce eh eh abbiamo pubblicato recentemente eh su diverse riviste eh tra cui eh insomma molto importanti ehm proprio questo fatto cioè proprio questo fatto cioè allora andiamo a capire se le cose cambiano eh sia per il nostro bene ehm cioè se fanno a caso nostro oppure no ehm e questi due esempi sono dei più particolari a me Michele veniva prima durante la trasmissione la presentazione quando hai parlato di biofilm e di sistemi di controllo dei biofilm è venuto subito in mente il mio lavoro da quando lavoravo in controllo qualità il terrore nel piping farmaceutico è rappresentato dall'insorgenza di biofilm giustissimo e lì è qualcosa in cui un campo di ricerca su cui eh penso ci possono essere degli sviluppi di ricerca su cui eh penso ci possono essere degli sviluppi forti ecco nel settore nostro in cui lavoriamo eh sì 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 di più su quella parte ovvero su sui vostri studi su presente biofilm è contromisure adesso. Sì, vero. Allora sono degli esperimenti che eh faremo nel prossimo futuro eh sono esperimenti de diciamo da parte scientifica dell'Agenzia Spaziale eh tedesca eh ma ce ne è tanti altri studi fatti in diversi diciamo diversi ambiti. Diciamo che che il concetto alla base è molto solido cioè noi dobbiamo studiare delle eh delle leghe o dei pattern a che possiamo applicare a a superfici metalliche eh per far far sì che queste possano essere di un utilizzo eh antimicrobico eh una volta che noi andremo a costruire eh queste eh navette in cui ci dovevamo stare chiusi per quattro mesi. Ah immaginate che 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 ricaduta possa avere questa cosa su ad esempio eh eh materiali che ad esempio si utilizzano negli autobus per reggersi. In questo mondo eh che si è che che purtroppo è eh è invaso da da covid e da chissà quali altri eh microorganismi queste cose possono essere possono dare fin là a determinati altri tipi di studi. e penso sia una parte veramente interessante che darà delle forti sviluppi per questo è questo la quando si parla di frontiera eh è questo è una forte esigenza dettata da da bisogni tecnici estremi porta probabilmente o porterà una crescita nella vita di tutti i giorni o nella vita di una gestione farmaceutica che potrebbe con dei loro sistemi andare avanti anche in assenza di nuove implementazioni tecniche facendo le cose come si sono sempre fatte ma con una spinta verso il miglioramento derivante da altri settori dalla frontiera appunto della ricerca eh potrebbe arrivare a a nuovi sviluppi migliorativi di quello che c'è adesso. e quindi penso che possono essere innumerevoli i punti di contatto e di crescita ecco derivanti appunto da un'applicazione diretta del della ricerca in un campo tecnico. Sì grazie grazie Elia grazie Michele ehm direi che siamo arrivati praticamente alle battute finali di questo talk però chiuderei ehm con una con un'ultima domanda eh ci sono diverse curiosità insomma rispetto magari al eh progetto di maggior successo che avete portato avanti se se vuoi accennare qualcosa su questo ehm e anche quali sono gli aspetti più sfidanti del tuo lavoro? Allora eh sul sul primo diciamo ahm ovviamente ah sono molti ehm i i progetti che ehm che abbiamo fatto che ho avuto il piacere di seguire dall'inizio a quelli che appunto eh ti danno più soddisfazioni ovviamente sono quelli in cui riesci anche tu come azienda ad essere eh messi in mezzo a pubblicazioni scientifiche eh impattanti eh questo eh l'esempio che vi facevo eh poco tempo fa sul sul su 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 batteri minatori no su piccoli batteri minatori eh ha avuto un grossissimo impatto eh su riviste tipo Nature Communications Frontiers in Microbiology insomma in su su riviste del settore importanti eh altre hanno comunque avuto eh un 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 grossissimo impatto ehm ma ad esempio uno studio che abbiamo fatto sull'ostoporosi eh con il gruppo eh della professoressa di sai eh lì a visai di Pavia eh ci ha permesso di di ottenere eh di andare in vetrina eh sul sito web della nasa eh per diverse ragioni eh è stato un po' un un qualche cosa di di carino in quanto è stato uno studio eh dell'ASSI dell'Agenzia Spaziale Italiana eh su eh osteoporosi e su contromisure. Questo esperimento è stato eseguito a un po' 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 un po progetti che abbiamo, che sono molto importanti. Sì, sicuramente l'aspetto della pubblicazione scientifica nel vostro settore, come anche nell'ambito degli studi clinici in generale, è una parte molto importante anche di gratificazione, come accennavi tu un attimo fa, del lavoro che viene svolto e di riconoscimento pubblico dei risultati che sono stati raggiunti, quindi è ancora di più apprezzato e apprezzabile il lavoro che state facendo su questo fronte e i risultati che state portando. La seconda domanda che mi avevi posto, sicuramente quello che facciamo è a quanto sfidante, potete ben capire che su dieci progetti, dieci progetti sono totalmente diversi l'uno dall'altro. E questo è indubbio, non si lavora mai sulla stessa cosa, nel bene e nel male, da questo punto di vista. Quindi viene da sé la complessità di gestire poi diversi ambiti che vanno dall'osteoporosi al biofilm batterico, insomma, e ai requisiti che sono poi coinvolti per lo sviluppo di questo hardware, no? È tutto lì. Sì, sì, no, infatti su questo fronte il livello di complessità e anche di varietà e di eterogeneità, insomma, dei progetti su cui lavorate effettivamente emerge molto e da qui, insomma, i nostri complimenti per il lavoro che state portate avanti. Grazie, grazie Michele, grazie di nuovo anche a Delia. Io direi, appunto, concludiamo qui questo secondo nostro talk sui medical devices con questa bella sorpresa, diciamo così, per noi di Kaiser Italia, che ringraziamo e ringrazio a nome di JSB Solutions, naturalmente. E noi ci vediamo la prossima settimana, mercoledì prossimo, con un'altra azienda toscana che ci fa piacere presentare WeTap. E come vi dicevo all'inizio, il mercoledì successivo ancora, concluderemo questo nostro virtual talks, questo programma di virtual talks con un'altra azienda altrettanto interessante che è Emoled. Quindi dopo la presentazione, dopo la testimonianza di un'azienda del cluster Emilia Romagna della scorsa settimana ci siamo un po' presi, diciamo così, lo spazio per avere delle testimonianze tutte toscane e naturalmente ci fa molto piacere insieme anche al distretto toscano di Scienze della Vita, per cui ringrazio anche Francesco Mazzini che vedo collegato. È stata una bella occasione di conoscenza, di approfondimento, di realtà del nostro territorio e per fare network sicuramente è importante partire da qui. Quindi grazie ancora Michele, grazie a voi, Adelia e buon lavoro per i vostri studi, per i vostri esperimenti e buona serata a tutti. Grazie, grazie, buona serata. Grazie, grazie ancora.